...è un indietro che interessa molto ed è un indietro che amico, non è delle tradizioni italiane. ...a tutto lo potrò segnalare... ...è questa è la Devo Sistono della Croce, questa è la Devo Sistono della Croce, questa è la Devo Sistono della Croce, questa è la Devo Sistono della Croce...